un nuovo appuntamento con cronache e commenti la trasmissione che teletruria dedica all'attività del consiglio regionale subito i titoli degli argomenti che affronteremo in questa puntata inchiesta che il dibattito in aula nuovo regolamento per il consiglio regionale che arriva a palazzo del pegaso l'inchiesta sui rifiuti e le infiltrazioni dell'andrangheta in toscana è stata al centro del dibattito in aula nel corso dell'ultima seduta del consiglio regionale ad aprire i lavori proprio le comunicazioni dell'assessore all'ambiente monia monni e del presidente della giunta gianni arriva dito che la toscana si costituirà parte offesa e ha inoltre proposto di cancellare l'emendamento sui rifiuti delle concerie finito al centro dell'inchiesta ma indubbiamente è stato un dibattito costruttivo un dibattito in cui sono emerse posizioni politiche si è approfondito gli aspetti come giunta abbiamo risposto con una mia relazione più generale una più specifica di monia monni su tutto quello che è stato il comportamento e l'agire degli uffici in questi ultimi tempi con tutta una sequela di atti che dimostrano come indubbiamente vi sia stato un atteggiamento di rigore di correttezza personalmente ho cercato di evidenziare che sulla base dei fatti la regione toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati a cui va la nostra piena fiducia accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare la correttezza degli atti e dall'altra parte mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone sovrintese naturalmente a quelle che possano arrivare da livello regionale. Una presa di posizione forte da parte nostra di solidarietà alle persone ovviamente indagate alle loro famiglie massima fiducia nella magistratura bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste esiste in toscana in italia come nel mondo è molto forte serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario questo ho chiesto come monito al consiglio regionale bene che la toscana si sia definita parte offesa a mio avviso è parte offesa anche il consiglio regionale semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno perché non ha aiutato nessuno e quindi bene come ho condiviso quello che ha detto il presidente gianni del fatto di eliminare un emendamento se anche questo può destare una semplice dubbio all'interpretazione diciamo di una norma perché la toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale i funzionari dell'arpat sono funzionari di altissimo valore che hanno sempre tenuto alta all'astricella dell'attenzione ambientale quindi si ripresenterà nei prossimi anni l'opportunità di fare scelte importanti questioni economiche questioni di salute è una dicotomia che viaggerà per tanti anni insieme ma soprattutto servirà una politica in grado di fare scelte con qualità competenza con forza oggi abbiamo ascoltato due comunicazioni dell'assessore monia del presidente gianni che hanno dato un quadro chiaro di quello che la regione toscana ha fatto negli anni che ci stanno alle spalle e quello che vorrà fare in futuro sia dal punto di vista dell'impegno per contrastare l'illegalità la criminalità e tutte le azioni degenerative che si annidano anche in toscana perché ovviamente il malaffare viene richiamato nelle situazioni in cui c'è ricchezza e magari l'economia gira dalla comunicazione dell'assessore monni abbiamo invece avuto una ricostruzione attenta di quello che è stato l'impegno della regione toscana per quanto riguarda il suo intervento nel distretto conciario per quanto riguarda la sostenibilità del del medesimo per quanto riguarda le attività che la regione doveva svolgere e da lì abbiamo potuto apprendere perché questa comunicazione che da molti è stata valutata come tecnica ha anche invece un alto valore politico perché ci fa comprendere come la regione abbia svolto il suo ruolo con i suoi dipendenti anche con i suoi amministratori che hanno supportato indirizzato i dipendenti la regione ha regolato la regione ha controllato la regione ha diffidato tutte le forze politiche hanno riconosciuto che purtroppo la mafia esiste anche in toscana la mafia esiste in toscana e si fa sentire e questo è già un primo traguardo visto che una settimana fa la maggioranza si era rifiutata di approvare la richiesta di fratelli d'italia che chiedeva di istituire una commissione permanente antimafia quindi un primo passo avanti lo abbiamo fatto riguarda questa è la prima parte la prima discussione riguarda il procedimento che la magistratura sta portando avanti e che alla fine dovrà dirci se nella nostra regione esistono degli assassini perché non esiste un altro termine per poter etichettare persone che in cambio di qualche euro hanno scelto di sotterrare sotto il nostro suolo migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici condannando a morte di fatto tre generazioni minimo di cittadini toscani la seconda invece discussione una discussione tutta politica e non può il presidente gianni non può la maggioranza trincerarsi dietro il la magistratura deve fare il suo corso perché la seconda discussione che è quella sull'esistenza o meno di legami tra dei centri di potere e la politica è una discussione tutta politica e deve essere fatta e affrontata nella sede più naturale che è l'assemblea che rappresenta tutti i cittadini della toscana cioè noi vogliamo sapere se in toscana esistono dei centri di potere che siano i conciatori di santa croce o che siano chi vogliono ma dei centri di potere che decidono al posto dei cittadini chi fa l'assessore chi fa il dirigente in regione toscana che scrivono leggi che consegnano poi a dei consiglieri che le presentano senza neppure sapere cosa c'è scritto dentro che vengono votate in maniera anche poco trasparente le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche invece quelle politiche era quella che secondo noi il presidente gianni doveva dare in questo momento perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni dalle fonti di stampa appare deve essere drammatico per il modo in cui la maggioranza che attualmente ha il governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica e i suoi rapporti con il territorio le aziende le imprese e quant'altro è gravissimo per chi apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto delle attenzioni delle mafie e questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla regione toscana in questi anni e di cui anche il presidente gianni ha parlato di fatto allora sono stati inutili e che i dossier che vengono fatti in cui ci denunciano cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in toscana non vengono ascoltati o forse presi sul serio e questa è forse la cosa più grave noi non riusciamo a dare garanzia ai cittadini per quello che succede e se davvero dovesse emergere cosa che mi auguro non accada mai che ci sono delle relazioni più profonde tra la politica e mafia o criminalità organizzata allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere abbiamo ribadito alcuni concetti il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in regione toscana e per questo primo proponente forza italia firmato tutti i colleghi di centrodestra abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in toscana vedete i report che ci sono stati negli anni a partire da quello della fondazione capo netto ci mettono un campanello d'allarme su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale l'abbiamo trattato oggi in consiglio regionale noi vogliamo estrema chiarezza vogliamo far luce vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio che vale 2,8 miliardi il 15 per cento del pil toscano 6 mila addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di santa croce sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi e se c'è qualcuno che ha sbagliato quel qualcuno deve essere allontanato ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare noi dobbiamo sostenere quel distretto dall'altro capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla regione toscana sono state a detta così dell'inchiesta inquinate da infiltrazioni mafiosi ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso che è oggetto di una parte dell'inchiesta e proprio perché una parte dell'inchiesta è oggetto anche i lavori dell'aula all'interno dell'aula noi abbiamo ribadito i nostri concetti noi dal presidente della regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso soprattutto su fatti così gravi lui deve venire deve essere chiaro in aula perché portare chiarezza all'aula significa portarla anche ai cittadini toscani questa comunicazione arriva due settimane da quando siamo stati resi edotti purtroppo di questa inchiesta a livello regionale due settimane in cui il presidente di regione è stato zitto questo per noi è inaccettabile perché leggiamo giornalmente e vediamo sulle tv tutte le notizie che riguardano questa vicenda che ancora è ben lontana da risolvere da essere risolta sappiamo che ci sono dirigenti regionali che sono indagati abbiamo chiesto cosa intende fare il presidente con il suo capo di gabinetto lui dice che ha avviato una procedura ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento basta semplicemente rimuovergli l'incarico e fargli cessare il di fatto il lavoro qui in regione abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della toscana chi ha sbagliato se ha sbagliato deve pagare tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi sul tema ambientale invece dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire però c'è necessità di agire velocemente altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini forza italia lega e fratelli d'italia hanno depositato la richiesta dell'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta sulle infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata in toscana da circa due mesi sto portando avanti ecco la richiesta di veramente mettere attenzione sul rischio di infiltrazione della criminalità organizzata ho presentato una interrogazione in consiglio regionale circa appunto due mesi fa nel frattempo in alcuni consigli comunali del valdarno sono già state approvate delle mozioni proprio per chiedere ecco di attenzionare il fenomeno dal consiglio comunale di montevarchi quello di buscine ma seguiranno anche i consigli comunali di san giovanni valdarno e di terranova bracciolini a veramente a prendere a cuore la situazione e oggi abbiamo come centro destra presentato la richiesta di istituire una commissione di inchiesta sul rischio infiltrazione come vicepresidente sarà mia premura a fare tutto ciò che mi compete affinché questa commissione si istituisca il prima possibile occorre l'attenzione delle istituzioni su questi fenomeni occorre tenere alta la guardia e noi lo stiamo facendo concretamente dal livello comunale a quello regionale cambieremo regolamento e sarà accelerata la digitalizzazione del consiglio così il presidente dell'assemblea legislativa antonio mazzeo che ha aggiunto lavoro già in atto nella discussione in ufficio di presidenza e conferenza dei capigruppo come consiglio regionale stiamo lavorando da un po' di settimane insieme ai capigruppo e l'ufficio di presidenza per lavorare sul regolamento di funzionamento del consiglio regionale proprio oggi in aula ho risposto al collega capecchi che chiedeva maggiore chiarezza io sto cercando di tenere insieme due bisogni entrambi importanti da un lato la tutela delle minoranze quindi la possibilità di dargli il tempo per presentare gli emendamenti relativi agli atti che la maggioranza presenta e dall'altro anche una garanzia a tutti i membri dell'assemblea legislativa della congruità del regolamento nelle prossime settimane completerò il lavoro insieme agli uffici e spero davvero entro l'estate di approvare un nuovo regolamento che tenga insieme questi due capisaldi garanzia delle minoranze e quindi possibilità di svolgere il loro lavoro nella maniera migliore possibile e dall'altro garanzia di tutta l'aula affinché tutto si svolga in maniera nella maniera più corretta possibile ed è tutto grazie per l'attenzione cronaca e commenti torna la prossima settimana